Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, provincia di Treviso, Casatella Trevigiana D.O.P., Gruppo ApoVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z-Gruppo. Raduno a Vedelago per la partenza di questa maratona. Vogliamo cominciarla così, questa puntata di Cronache Trevigiane, con il sindaco Paolo Quagiotto e con gli altri amministratori uniti in questa manifestazione, che non è solo un evento sportivo, ma è un evento di territorio, sindaco. Assolutamente sì, quindi allora noi partiamo dall'evento sportivo per coinvolgere i 5 comuni della Castellana, Resana, Castelfranco, Riesi, Altivoli e Vedelago, per fare squadra. Ma soprattutto in questo momento dall'evento sportivo dobbiamo dare un messaggio di marketing territoriale. È importantissimo questo e su questi 5 comuni ci sono tutti quanti. Oggi è una bella giornata, speriamo che sia un evento favoloso. E che non è l'unico evento, guardando al 2012, la maratona ritornerà, ma c'è anche una tappa del Giro d'Italia in arrivo. Sì, in questo momento stiamo organizzando la tappa del Giro d'Italia. Il prossimo anno potrebbe essere un anno dedicato interamente allo sport qui a Vedelago. Speriamo che sia lo sport l'elemento aggregativo del territorio, della Castellana e non solo. Utilizziamo lo sport per dare un messaggio di unione e di coesione che parte da Vedelago. Allora, intanto ci fermiamo qui. Un servizio di cronaca trevigiane e poi decolleremo allora a scoprire anche i segreti di questa maratona della Castellana, la prima edizione. A tra poco. La Regione Veneto non poteva mancare l'appuntamento con Expo Beach e la Fiera di Padova, il più importante evento a livello nazionale per il mondo della bicicletta. Beach di tutti i tipi, proposte cicloturistiche, ospiti d'eccezione come Moreno Argentine e Vittorio Brumotti. Insomma, il paradiso per gli appassionati delle due ruote e dei pedali. Marino Finozzi, assessore regionale al turismo, ci illustra la strategia della Regione per incentivare il cicloturismo in Veneto. Certo, presenteremo una mappatura del nostro territorio che permette agli appassionati della bici di poter conoscere quali sono i segreti del nostro territorio. Una mappatura già referenziata tridimensionale che permette anche agli appassionati, non perfettamente in forma, di costruirsi un proprio percorso. Dove trovare un buon ristorante, dove, se capita, trovare anche dove pernottare, dove si può trovare anche quei centri di assistenza che sempre servono quando si avvia un percorso così importante da un punto di vista ciclistico. Quindi il Veneto ha questa grande aspirazione di poter ospitare quanti più appassionati della bici possibile. Padova Fieri collabora con la Regione Veneto per lo sviluppo dell'offerta turistica collegata al mondo del pedale. Sentiamo il direttore generale Paolo Coint. Noi abbiamo collaborato con la Regione fin dalla prima edizione. Riteniamo che sia fondamentale promuovere il consumo di qualità. Il consumo di qualità si realizza nel momento in cui la bici viene usata in territori piacevoli, viene usata nel tempo libero, viene usata per le vacanze, viene usata come strumento per vivere bene. La Regione Veneto ha fatto un forte investimento in questa direzione e quindi noi siamo grati come cittadini del Veneto, siamo grati come fiera per il fatto che ci sia questa volontà di presentare un percorso importante proprio all'interno di questa manifestazione. E andiamo a incontrare il primo ospite di riguardo, l'ex campione del mondo di ciclismo su strada, Moreno Argentin, Veneto Doc, di San Donato di Piave. Ecco il suo bici pensiero. Quando prima dicevo non si può stare senza la bici perché la bici adesso deve diventare ancora un mezzo di trasporto, almeno nelle città, bisogna riscoprirla e riproporla in tutte le salse perché questo ci porta a salute e benessere. A portare scompiglio durante l'inaugurazione nello spazio espositivo della Regione Veneto ci ha pensato allo scatenato inviato e biker di striscia la notizia a Vittorio Brumotti o per meglio dire 100% Brumotti. Siamo riusciti faticosamente a bloccarlo per scambiare due parole. Mi piace che non bisogna andare in Germania né a Las Vegas né a Milano ma veniamo nel Padovano e c'è chi ci dà di sprizzi, io ci do di Red Bull e biciclette. È una bella giornata oggi, il giorno d'apertura. Ci divertiamo a Bombazza. Dicevamo una maratona che non è solo un evento sportivo ma culturale, sociale, un evento di territorio. Vede Lago, Resana, Castelfranco Veneto, Riese, Pio X e Altivole. Cinque comuni insieme per raccontare un momento storico dove forse fare squadra è l'unica via per uscire da una crisi che attanaglia un po' tutti i settori. Sindaco, sindaco di Riese Pio X. Sì, condivido la tua affermazione, fare squadra è da qualche anno che questi comuni del territorio del Castellano lavorano insieme per tanti temi ma anche su quello sportivo che poi ha un risvolto sociale, culturale, economico e anche soprattutto legato al volontariato perché le tante manifestazioni del territorio portano poi a lavorare insieme e sicuramente a dare risultati che i nostri cittadini ci aspettano. Allora, grazie da Riese, passo a Resana con il primo cittadino e in più correre fa bene, no? Correre fa bene, fa bene stare assieme e lavorare assieme. Ecco lo spirito con cui è nata questa maratona. Allora, grazie anche a lei, sindaco a Daltivole. Incontriamo il sindaco con l'assessore. Ok, allora, un'altra prova, una sfida e vediamo se questo territorio castellano riesce a vincerla. Sì, per noi è la prima volta per questo tipo di esperienza come maratona però l'abbiamo presa veramente con moltissimo entusiasmo. È veramente un'opportunità anche per far rete con gli altri comuni di questo territorio bellissimo che è la Castellana e speriamo che in futuro possa creare anche ulteriori opportunità di collaborazione fra di noi e che oggi sia una splendida giornata di sport per tutti. Certamente, assessore in più, il sindaco ha dimostrato che ha fiato per correre. Sicuramente, ci darà paga a tutti il fondo del traguardo. E ci spostiamo su Castelfranco Veneto, allora un passaggio anche in Piazza Giorgione per un evento davvero nel tempo che potrebbe crescere e accomunare arte a sport. Sicuramente sì, diciamo che è il punto zero, un nuovo punto zero e Castelfranco vuole fare la sua parte. Ha messo a disposizione la Piazza del Giorgione nell'ottica di valorizzare il territorio di Castelfranco e della Castellana tutta. Quindi io anticipatamente dico sicuramente buona la prima. Allora, grazie anche lei. Una stretta di mano ideale a tutti i sindaci di questa Maratona della Castellana. Ci fermiamo per un servizio di cronaca trevigiana e poi ancora tanta tanta maratona. Un patto tra città e comunità europea per la lotta al cambiamento climatico. Questo è il tema al centro del seminario organizzato dal Consorzio per lo sviluppo della biodilizia e che si terrà a martedì 18 ottobre presso la provincia di Treviso. Invitati tutti i comuni trevigiani ai quali sarà illustrato il patto dei sindaci, ovvero l'iniziativa della Commissione europea volta a coinvolgere attivamente le amministrazioni comunali nel percorso della riduzione dei consumi energetici. Un obiettivo di fondamentale importanza per l'ambiente naturale ma anche un'importante occasione economica per il territorio, spiega il Presidente del Consorzio della Biodilizia Michele Noal. C'è una grossa opportunità a livello europeo, tanti finanziamenti, soprattutto ma anche tanti impegni legati appunto al 2020. Quindi far abbassare le emissioni di CO2 in tutta la provincia partendo da una data certa, quella del 2012. Molti gli esperti e gli operatori del settore che interverranno al seminario organizzato dal Consorzio della Biodilizia con la collaborazione della provincia di Treviso e dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana. Michele Noal ce ne illustra gli obiettivi. Questo seminario si prefigge di fare tante informazioni, comunicazioni ai sindaci e ovviamente regia in maniera strategica e importante con la provincia che dal suo osservatorio può effettivamente aiutare i sindaci a camminare su un patto molto difficile da portare avanti ma che potrebbe avere ricadute economiche e ambientali molto importanti per tutto il territorio della provincia. Il seminario è una delle tante iniziative del Consorzio della Biodilizia per promuovere la cultura dell'ecosostenibilità nel mondo delle costruzioni, prosegue il Presidente Noal. Occasioni come queste danno ancora la possibilità a tutti i comuni, ai sindaci, ai tecnici, agli uffici tecnici di conoscere la realtà del Consorzio della Biodilizia, di conoscere le tecniche nuove, costruttive e di insieme alla provincia stessa dare la possibilità a tutti i cittadini di arrivare addirittura alla certificazione dei propri affabbricati. Questo è un po' l'ambizioso obiettivo che ci diamo. Il patto dei sindaci, un'occasione economica per il settore edile, un'iniziativa a favore della salute dei cittadini. Questo è il messaggio di Michele Noal. Il messaggio che potrei dare ai cittadini è quello di credere nelle istituzioni che le rappresentano in questo momento, anche così difficile, ma soprattutto guardare con concretezza le azioni che portano beneficio al territorio. Oggi vi voglio presentare il Raboso Piave 2008, Campo Dei, della cantina storica Viticulturi Ponte di Piave. È un vitigno autoctono del nostro territorio. Vedete il colore? Il colore è un rosso rubino, perlomeno limpido, ma rosso rubino intenso, da quei riflessi piacevoli, anche granati appena accennati da questo punto di vista, ma di una tipica intensità. Al naso apre, apre su note minerali innanzitutto, piuttosto che arrivare alle sensazioni speziate, voglio dire pungenti del pepe. Nello stesso tempo il piacere di cedere il passo poi ai frutti di bosco, a quella che è una leggera accennata confettura. Il gusto è lui, è lui per forza, è il Raboso con questa vibrante tannicità, con questa vibrante vivacità per quanto riguarda la sua freschezza. Del resto tannini, tannini robusti che chiaramente sostengono un po' tutta questa sensazione, tutto questo corpo del vino. Un finale piacevole, voglio dire che ci portano un po' che porta poi alla sensazione dei frutti di bosco. Io lo accompagnerei con un manzo al sale, lo accompagnerei con dell'agnello arrosto, alla temperatura che per me vale 16-18 gradi. Il vino di oggi è un Müller Thurgau. È un vitigno un po' particolare, perché trova la sua collocazione nei paesi del nord, ma ha un'espressività molto importante anche in provincia di Treviso, qui da noi. L'azienda è l'azienda società agricola, i padroncini dei fratelli Lorenzoni. Siamo a San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso. Il colore è un giallo paglierino, tipico di questo vitigno, ma sono presenti anche dei leggeri riflessi verdolini. Acceso, trasparente. Sentiamolo al naso. Al naso è delicato, regala certamente profumi floreali, anche fruttati. Fiori di camomilla, glicine, leggera scia a mandorlata nel finale. Proviamolo in bocca. Sottile, delicato, sapido. Sapidità in equilibrio con una propria morbidezza. Un vino bello e curioso, da servire certamente fresco, in abbinamento con un risotto di verdure. Evviva e buon appetito. E rientriamo in questo studio ideale dedicato alla Maratona della Castellana. Eccolo qui, lo straordinario vincitore con un tempo davvero importante, ma ve lo presento tra un po'. Intanto ci fermiamo per una piccola pausa. Tra poco. Con un piccolo gesto, il tuo viaggio con il pulmo alla marca è più sicuro. Oggi è in vigore il nuovo sistema elettronico di bigliettazione. Basta avvicinare la card alla nuova validatrice e il microchip farà il resto. Con abbonamento o biglietto, la validazione è sempre obbligatoria. Con la card elettronica alla marca, in futuro si potrà viaggiare in tutto il Veneto anche con altri mezzi e acquistare servizi. Movi Marca con un piccolo gesto sei un grande. La validazione è obbligatoria ad ogni corsa. La marca card è una ricaricabile. Questa manifestazione si è svolta con temperature davvero improbabili per il 2 ottobre e abbiamo vari protagonisti. Cominciamo dal presidente Fidel di Treviso, Donne Tuvia. Come è andata? Oggi possiamo davvero dire come è andata questa maratona? È stato un enorme sforzo organizzativo perché ripartire con una situazione così importante non era semplice. Ci sono alcune cose che sono degne di nota e dovranno essere gestite senza altro in modo diverso per la prossima edizione. ma l'impianto generale è di prima qualità. Ciò nonostante il 2 ore 17 e 40 del Keniano Iego è una prestazione enorme fatta in una condizione climatica come quella di oggi. Grazie a Fidel Treviso per esserci state vicini durante tutta questa maratona e c'è anche una maratona nella maratona una maratona speciale con l'associazione Oltre di Montebelluna Michele Catellan vicepresidente allora com'è andata? È andata stupendamente bene soprattutto sicuramente per i ragazzi che si sono divertiti. Qualcuno ha tirato indietro ma riprenderemo in seguito. Per il resto noi non possiamo lamentarci sicuramente dell'organizzazione che ci è venuta incontro in ogni senso. Noi vi ringraziamo ci fermiamo qui un servizio di cronaca e trevigiane e tra poco vedremo se finalmente i nostri microfoni arriverà il vincitore della prima edizione della maratona della Castellana tra poco. Torna con vai il tradizionale appuntamento della festa dei marroni IGP. Fino al 30 ottobre un ricco calendario di degustazioni escursioni guidate e spettacoli il tutto nel segno del pregiato frutto autunnale della Pedemontana di Marca. Giunta la 67esima edizione la festa dei marroni si inserisce all'interno della rassegna delizia d'autunno e vede ogni anno una folta partecipazione di pubblico non solo locale attirato dalla ricca offerta gastronomica e dai tanti eventi allestiti dalla Proloco di Combai. Un evento che appartiene all'identità del territorio sostiene il sindaco di Miane Angela Colmellere. Festa che rappresenta una comunità che fa la storia di una comunità perché appunto da tanti anni si rinnova ogni anno in maniera diversa in maniera più creativa più divertente per tutti appunto gli appassionati e comunque le persone che vengono da fuori. Una festa per tutti i gusti assicura la presidente della Proloco Maria Vittoria Moro. i bambini per l'esplorio ambiente poi gli adulti per la fantastica via per i cori per le mostre di pittura che sono molto importanti per gli artigiani del legno e soprattutto anche per il simposio di scultura che è quest'anno la dodicesima edizione. Con la festa è stato anche inaugurato un nuovo centro di lavorazione del Marroni GP destinato ad ospitare l'intera filiera della Castagna. Ce ne parla Gianni Pagos presidente dell'Associazione Produttori del Marrone di Combai. Oltre alla lavorazione del prodotto fresco da vendere appunto fresco ci darà la possibilità di lavorare ulteriormente anche il prodotto. Andremo a fare un forno per l'essicazione dei marroni avremo così la farina che ci servirà per avere dei dolci di marroni da immettere sul mercato e quindi avremo un prodotto che rimarrà sul mercato per tutto il tempo dell'anno. Andremo a creare il Museo della Castagnicoltura abbiamo una storia molto antica del Marrone di Combai abbiamo documenti che partono dal 1200 e qui andremo a creare questo museo che sarà fruibile alle scolaresche nell'esplorambiente in quella manifestazione esplorambiente e comunque rimarrà aperto tutto l'anno per il turismo e appunto per le scolaresche. Un investimento importante per il territorio salutato con soddisfazione dal presidente Leonardo Muraro. ringrazio per cui il presidente dei produttori dei marroni le Proloco che ci sono attivate per creare questo centro di lavorazione che permetterà non solo di pulire e raffinare il marrone stesso ma fare anche dei prodotti complementari come ricordiamolo il vecchio castagnaccio che serviva per mangiare crudo ma per fare anche delle torte magnifiche. Rientriamo in questo studio ideale dedicato alla Maratona della Castellana volevamo raccontarvi anche l'expo l'expo degli sponsor della Maratona della Castellana perché è diventato davvero una vera Maratona del gusto ad esempio entriamo nell'azienda Perozzo allora un'azienda qui di Vedelago che fa che cosa esattamente? Abbiamo aperto un punto vendita con vari tipi di lavorazione di carne fra cui anche gli insaccati la bellezza di questa festa è incontrare poi la gente all'insegna del chilometro zero come detto sì sicuramente è un contatto diretto con il consumatore per farci farci conoscere e assaporare in diretta diciamo così i nostri i nostri prodotti e scopriamone altri gusti di questa Maratona dei sapori e siamo nell'azienda agricola Campoverde un'azienda agricola davvero speciale ce lo racconta Lina Pozzobono il motivo perché questa azienda agricola è speciale intanto è una cooperativa sociale dove hanno ragazzi che hanno problemi psichiatrici che lavorano la terra quindi hanno ragazzi che hanno più bisogno di spazi fuori diciamo vediamo tanta ortofrutta tantissimi frutti di stagione roba di stagione chiaramente complimenti anche per la scelta di aiutare questa Maratona della Castellana grazie grazie a lei e all'expo della Maratona della Castellana arriviamo anche nell'angolo di Campagna Amica di Col Diretto il Treviso e qui proponete prodotti della zona specialmente il miele della zona di Vede Lago della pianura che viene prodotto qui nelle nostre zone però viene anche portato nel montello gli alveari per fare la mielatura l'azienda dei Caroni avete delle particolarità davvero gustose perfetto noi dell'azienda dei Caroni produciamo un asparago bianco un asparago bianco sempre della zona vicino alla doc di Bassano dove noi a parte la produzione normale facciamo anche delle piccole confezioni dei vasetti dove facciamo l'agrodolce e il sottaceto il sottaceto è un piccolo prodotto che è basato di piccoli pezzettini di asparago solo con l'aceto allora io ringrazio e non ci resta che concludere con un brindisi seguitaci e come promesso questo prosit lo facciamo con la cantina di viticoltori ponte che qui a Vede Lago Germana come mai? qui a Vede Lago perché abbiamo un punto vendita che è in via Roma 142 presso il consorcio agrario e quindi avete sostenuto questa maratona grazie a questa vicinanza territoriale esatto abbiamo partecipato volentieri a questa manifestazione devo dire molto interessante sicuramente per il territorio e anche i prodotti locali e allora facciamo un brindisi ideale con questi prodotti straordinari ci fermiamo qui un altro servizio di cronaca trevigiane e poi tra poco le conclusioni scriviamo insieme la città è questo il titolo del convegno organizzato da Ascom Confcommercio Treviso e dall'associazione Treviso 3 un incontro tra cittadini amministratori associazioni e studiosi dove ci sono presentati i risultati di una ricerca sullo sviluppo e il rinnovamento del centro storico di Treviso un progetto a cui hanno partecipato più di 2000 persone che abitano che lavorano nel capoluogo della marca tramite le risposte date ad alcuni questionari i cittadini hanno tracciato l'identikit della loro Treviso ideale il presidente di Ascom Confcommercio Treviso Guido Pomini ci spiega perché la sua associazione ha promosso questa iniziativa sapevamo benissimo che ciò che emergeva era qualcosa che faceva riferimento a tutti non solo al commercio ma alle necessità dei cittadini necessità di chi viene a lavorare a Treviso di chi la frequenta come turista e in qualche modo potevamo trovarci di fronte a una a una realtà ben diversa da quella che noi abbiamo sempre speso per Treviso in questi ultimi anni presentiamo un risultato che è sicuramente unico nel suo genere ma credo anche molto in linea con le aspettative di questi ultimi anni partner di Ascom Confcommercio Treviso è stata l'associazione Treviso 3 il presidente di Treviso 3 Alberto Buso ci spiega cosa emerge dalle risposte dei questionari i vari temi emessi da sondaggio non riguardano solo il concetto di pedonalizzazione abbiamo dei macro capitoli molto importanti la città è intesa come un organismo e quindi nuovi centri museali nuovi spazi per la cultura di aggregazioni la città che pulse la città che filtra una nuova idea di città legata alla mobilità sostenibile Venezia con il nord-est ha avanzato la candidatura per diventare nel 2019 capitale europea della cultura una candidatura alla quale la ricerca promossa da Ascom Confcommercio Treviso può dare un grosso contributo sentiamo Filiberto Zovico uno dei promotori di Venezia con il nord-est capitale della cultura 2019 il tema in realtà è Venezia con il nord-est capitale europea della cultura cioè l'unione di tutti i territori del nord-est di un grande progetto che vada qui al 2019 che significa riqualificare il nostro tessuto produttivo e riqualificare le nostre città di conseguenza questo è un progetto estremamente interessante perché parte dal basso parte da realtà associative di giovani di commercianti e così via e di conseguenza pensa il futuro di Treviso dentro un grande contesto metropolitano come quello del nord-est presenta il convegno il sindaco di Treviso Gian Paolo Gobo che sottolinea l'utilità dello studio per la propria amministrazione credo sia anche un punto di partenza questo per capire cosa i cittadini vogliono ma anche per avere delle idee per il futuro quindi certamente l'amministrazione ne farà un buon uso e comincerà anche a verificare quelle che sono ovviamente le logiche per il futuro di Treviso infine una riflessione del presidente di Ascom Confcommercio a Treviso Guido Pomini abbiamo sempre detto che la città vive di commercio io vorrei arrivare invece ad asserire che il commercio vive di città e a quel punto avremo fatto l'operazione migliore ed eccoci allora per le conclusioni con Diego Salomon Chirva Keniano che vive a Perugia corre per la Stamura Ancona e ha vinto la prima edizione della Maratona della Castellana 24esima Maratona di Vedelago con il tempo di 2 ore 17 minuti 47 secondi il secondo è arrivato distanziato di più di 13 minuti un tempo davvero importante very important per te è un tempo buono per me ho corso il tempo migliore di questa Maratona 2 ore e 17 minuti un tempo ottimo e sono contento per questo si questo è il mio lavoro in Kenya sognavo di diventare un maratoneta il percorso è ottimo perché si corre in piano e non ci sono avvallamenti il problema è stato il caldo molto caldo ovviamente oggi l'organizzazione è molto buono l'organizzazione è stata molto buona con molti punti di ristoro lungo il percorso peccato per il caldo caldo thank you thank you very much grazie ciao ciao allora siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di cronache trevigiane tutta sportiva ci rivediamo la prossima settimana stesso orario stessa televisione un programma in collaborazione con un'industria treviso provincia di treviso casatella trevigiana DOP gruppo APOVF gruppo Grigolin cronache trevigiane è una produzione Zeta Group grazie a tutti